Ehi la, ehi la ragazzuoli e ragazzuole, sto facendo un video, sto facendo un video come al solito ma non credo che sia il video che probabilmente vi aspettavate, non credo che sia un video che vorreste vedere ma è un video necessario, è un video necessario perché perché ce ne stiamo andando, ce ne stiamo andando la Spazio Games, la vecchia redazione, quella che avete conosciuto per tutti questi anni non ci sarà più, se ne va Lorenzo, se ne va Tommaso e me ne vado anch'io, Spazio Games, come la conoscevate, non esisterà più. Di grandi differenze quando vediamo un videogioco normale non in 4K, quindi… Assolutamente. Satellite, hai rotto il cazzo! Va bene. Secondo me questi tipi di giochi possono sembrare noiosi ma per quanto noiosi sono delle simulazioni certosine. Detto questo, chi di barba abbonda di cazzo sfoglia. Cioè, ma perché l'hai letta sta cosa? Non avevo letto un'ultima parte! 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 Non avevo letto un'ultima parte sembrava un po' sensato! Secondo, Cristo Santo volete smettere di concentrarvi sulla macchina che… sulla… 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 comparto tecnico. Che avete due console di merda in casa. Ok! Oh! Sto buttando la leva della merda! Oh! 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 Perché io posso avere delle meccaniche difficile che mi portano a dover utilizzare certe manovre contro quelli che mi sparano le frecce. Posso avere dei sistemi di magie elementali multipli che mi permettono di utilizzare più abilità e non una sola abilità del cazzo. Posso avere delle combo complesse basate sul timing e non solo su due tasti di merda. Posso avere l'ira di Dio… Qualcuno mi passi del bacon che lo facciamo friggere sulla testa di fregianza. Posso avere l'ira di Dio di cose già solo a livello di sistema di combattimento che è quello che la gente difende. In più tutto il resto è una merda! Quindi come fai a difendere i musù? Ok, devi prendere il collo. C'è una cosa che non dovresti mai fare in realtà. Se tu ti sei caricato con… Stiamo un po', stiamo leggendo la chat… Ragazzi, nel frattempo iniziate pure a fare le domande sulla chat di Twitch perché tra un po' passeremo a quella… SONTA MADRE! SONTISSIMO! Va bene, possiamo chiudere l'Inter. Abbiamo perso fregianza, ovviamente. Il Platinum camiglia sul palco. Ma parliamo del gameplay di questo gioco. Ti sbalco se passo un'altra volta! TORNA INDIETO! TORNA INDIETO! No, no, dai, ci sono in piena! TORNA INDIETO! VEST CHIUSURA EU! No, ce la devo fare, la cosa ragazzi. Questa inizia è finita. Vado a comprare delle f***te posizioni. GOL! UN OO! Non so! Non so che non solo Dino c'era quel mostrato ai c***o dopo il tempo e poi c'era un il gol Ma il Bariti subisce questo gol Sta subendo questo gol Si introfano un po' Così non è Sai con me vanno giù Con te rimangono su Non hai capito essa cosa Porta maglia Che odio Ma merda E là E va bene Porta maglia Mi ho fattuto maledetto Gatti questo Merda E' un po' In the signs there were words And the prophets are written on the subway walls In tenement halls In this world in the sun Molto di più di quando l'avranno fatto Giochi che sono nativamente multipli Perché ricordiamoci che l'Italia Non la smuove una guerra Non la smuove una nucleare Non la smuove l'Apocalisse Ma il calcio e la figa Vanno alla grande Nooo Tocca piano E suca sta minchia Fai lo sbroffo Fai lo sbruffone Mi ritiro da campione Grazie a tutti E' stato un piacere Sono qui fino a giovedì Mua Plausibilmente E' tutto qui Ragazzi Davvero Questo è quello che mi ha dato Spazio Games E io sarò sempre grato Per tutto quello che mi ha Che mi ha dato Sarò sempre grato a voi Per tutto quello che mi avete dato Sarò sempre grato Per tutte le esperienze che ho vissuto Grazie a questo sito E' stato E' stato un bel periodo Spero di avervi lasciato qualcosa E spero appunto Di rivedervi in giro Grazie Ciao Ciao Grazie a tutti.